Partirà dal presidio ospedaliero Santa Croce di Fano, il primo camion militare del reggimento dei carabinieri di stanza a Pristina, in Kosovo, carico di beni sanitari da destinare all'ospedale Simonida di Grassanica. Dopo l'esperienza anche in altri paesi, questo invio rappresenta il primo blocco di aiuti che l'azienda ospedaliera Marche Nord porterà a sostegno di alcuni ospedali e strutture sanitarie. Il progetto nasce da un'idea condivisa tra Paolo Gorga, brigadiere e capo dei carabinieri attualmente in servizio in Kosovo, inoltre il direttore dell'azienda ospedaliera Marche Nord Aldo Ricci, Nicola Nardella, direttore di presidio di Fano e Luca Stefanelli, ufficiale in congedo dell'esercito italiano nonché coordinatore di alcuni studi odontoiatrici della provincia. Un percorso già di collaborazione che Marche Nord ha proprio con la cooperazione internazionale, non dimentichiamoci i rapporti che noi abbiamo con la Palestina, con Israele e con la Sierra Leone. Nella fattispecie stiamo collaborando cercando di contribuire eventualmente anche con della strumentazione che noi classifichiamo come fuoriuso e grazie a questa collaborazione con i carabinieri cerchiamo chiaramente di dare il materiale che magari andrebbe dismesso. Questo primo invio prevede la consegna di 40.000 guanti sterili, 1.500 garze sterili, 1.000 garze non sterili, inoltre 1.000 mascherine e del sapone per il presidio chirurgico. Questo invio di questo materiale rappresenta solo un primo step, una prima battuta, poi a questo seguirà l'invio di una parte consistente di materiali e di arredamenti sanitari che andranno ad arredare e completare un ospedale che è stato ristrutturato dopo la guerra e poi avremo invece una fase che ci vedrà protagonisti come professionisti che coinvolgerà diversi professionisti, diversi dentisti della zona in primavera e rappresenterà la fase finale di questo progetto, di questa missione umanitaria. Una fase finale che comprende quindi una campagna di sensibilizzazione, prevenzione e azioni odontoiatriche. Invece mercoledì mattina salutare la partenza del mezzo militare saranno presenti i medici e autorità civili, tra cui il comandante della compagnia Carabinieri di Fano, il capitano Alfonso Falcucci, il quale consegnerà alle persone coinvolte nel progetto attestati di apprezzamento rilasciati dal reggimento di Pristina per la lodevole attività svolta.